benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto buonasera come torino divenne capitale del piemonte perché torino sia la capitale del piemonte è una cosa cui siamo talmente abituati che non ci viene neanche in mente che potesse andare diversamente e in realtà tutt'al più ci chiediamo quando ci occupiamo di storia quando e come torino diventò la capitale dello stato sabaudo che è un po' un'altra cosa e abbiamo anche la risposta perché tutti i manuali lo dicono tutte le guide tutte le opere divulgative torino divenne la capitale dello stato sabaudo quando emanuele filiberto nel 1561 tornando in piemonte dopo un lungo esilio trasferì la capitale da chamberia torino sono abbastanza sicuro che questa frase trasferì la capitale da chamberia torino tanti di voi ce l'hanno nell'orecchio e d'altra parte passiamo tutti i giorni in piazza san carlo dove il monumento a emanuele filiberto il cavallat bruns ricorda precisamente quell'occasione la cosa fondamentale è che non è vero niente non è assolutamente vera questa storia emanuele filiberto non trasferisce nessuna capitale ma tornando torna a torino perché torino già prima dell'invasione francese era diventata a tutti gli effetti non solo la capitale del piemonte ma la capitale del ducato intero dell'intero stato stasera proveremo a vedere com'è che torino già molto prima era in realtà la vera capitale del piemonte e dello stato dei savoia non era la capitale perché era la città più grande come a noi sembrerebbe ovvio oggi oggi non c'è neanche discussione torino è l'unica grande metropoli del piemonte e tutte le altre città sono di un'altra categoria torino oggi ha quasi 900 mila abitanti e molti di noi si ricordano quando ne aveva un milione e 200 mila la seconda città del piemonte novara ne ha 100 mila poi c'è alessandria 90 mila e via a scendere quindi voi capite non c'è proprio proporzione è ovvio che torino è la capitale del piemonte allora adesso io vi devo portare in un'epoca lontana la fine del medioevo in cui le cose non stavano così prima di dirvi quanti abitanti aveva torino alla fine del medioevo devo fare come dire un po di contesto nel medioevo le città sono piccole la stragrande maggioranza della gente sono contadini che stanno in campagna quindi le città sono piccole e noi non dobbiamo metterci a ridere quando vediamo una cifra di abitanti che ci sembra appunto ridicola perché una città era una città lo stesso la città è una città perché ha le mura perché ha un vescovo perché ha dei palazzi perché c'è il mercato perché ci sono fortificazioni una guarnigione il governo sta lì i sovrani stanno lì per quello è una città non ha bisogno di avere tanti abitanti per essere un posto ben diverso dalla campagna no detto questo alla fine del medioevo in europa una città di centomila abitanti quanti ne hanno vara adesso è un'immensa metropoli e a loro fa quell'effetto lì quando uno di allora entra in una città di centomila abitanti è in un luogo inconcepibile impensabile centomila abitanti li hanno venezia firenze milano parigi forse neanche londra venti o trentamila abitanti fanno una grande città grande ricca diecimila abitanti sono una città normale cinquemila abitanti sono una piccola città ma sempre una città allora torino alla fine del europeo stava appunto sui cinquemila abitanti come facciamo a saperlo li contavano non proprio non contavano proprio tutti gli abitanti però contavano un'altra cosa che alle autorità interessava di più i contribuenti il fisco era efficientissimo perciò ogni capofamiglia che abita in città e che può pagare le tasse è elencato e periodicamente si rinnovano questi elenchi allora noi non sappiamo quanti abitanti aveva torino ma nel 1415 a inizio 400 e tenete conto che tutta l'europa è spopolata in quell'epoca c'è stata la grande peste del 1348 la peste del boccaccio e poi tante altre epidemie l'europa è tutta a corto di abitanti all'inizio del 400 all'inizio del 400 i contribuenti a torino sono in tutto 624 624 famiglie poi uno fa un po di conti dice più o meno moltiplica per 5 per 6 o anche di più perché loro facevano tanti figli e poi chi è contribuente vuol dire che ha una piccola azienda un negozio avrà dei garzoni che sono iscritti con lui a famiglia e poi ci sono naturalmente il clero che non paga le tasse quindi non è compreso nell'elenco e poi ci sono i miserabili che non pagano le tasse quindi non sono compresi e chissà quanti sono tanti quindi 624 capifamiglia che pagano le tasse fatti due conti a 5.000 abitanti ci arriviamo ma non di più nel corso del 400 torino aumenterà nel corso di un secolo raddoppia la popolazione però capite raddoppia vuol dire che arriva a 10.000 abitanti siamo sempre su livelli che oggi ci sembrano ridicoli il fatto è che in piemonte ci sono pochissime città più grandi però ce ne sono parecchie di quel livello ecco il primo punto da chiarire è questo torino nel 400 è allo stesso livello allo stesso numero di abitanti di pinerolo di cuneo di savigliano chieri ne ha un po di più moncalieri ne ha di più vercelli ne ha molti di più mondo vi ne ha molti di più molti di più vuol dire 10.000 anziché 5.000 siamo sempre in quelle grandezze però è per dirvi che torino città a tutti gli effetti è una città romana ci sono le mura romane con le loro torri le porte palatine il palazzo del vescovo la cattedrale è una città però è una città dove ci sono in una regione almeno altre sette città altrettanto grandi ognuna delle quali dice e perché mai torino dovrebbe essere più importante di noi ecco una cosa che va chiarita e che all'epoca come dire funziona tutto come in toscana avete presente in toscana pisa e lucca venezia addio firenze e siena ecco nel medioevo è così dappertutto ogni città pensa solo a se stessa e detesta i concorrenti e fa tutto quello che può per rovinare i concorrenti e affermarsi su di loro allora qui abbiamo otto città in un fazzoletto di terra come il piemonte ognuna delle quali se potesse vorrebbe superare le altre nel corso del 400 ve l'ho detto torino cresce supera pinerolo supera cuneo supera savigliano non supera vercelli per esempio ancora all'inizio del 500 un viaggiatore lombardo passa da vercelli e scrive questa è una città assai grande maggiore di torino non parliamo di mondo vi che rimarrà una grande città per i criteri di allora ancora nel 5600 quindi non è per la sua forza demografica che torino diventa la capitale è per qualcos'altro è per una serie di scelte politiche che portano a torino una serie di organismi ed istituzioni che fanno sì che a un certo punto la città stacca tutte le altre la storia comincia coi principi d'accaia ancora oggi c'è via principi d'accaia anzi proprio qui dietro come sapete via principi d'accaia chi sono i principi d'accaia i principi d'accaia sono un ramo dei savoia a un bel momento bisognava dare un contentino al fratello minore allora i savoia gli ritagliano un pezzetto un pezzo di piemonte lo danno al fratello minore e ai suoi discendenti i principi d'accaia regnano non su tutto il piemonte dei savoia ma su un pezzetto che comprende torino moncalieri pinerolo e fossano queste sono le quattro metropoli dei principi d'accaia i quali principi d'accaia fra queste quattro città hanno le idee chiarissime quella che gli piace è pinerolo e infatti risiedono a pinerolo dove ci sono ancora oggi il palazzo dei principi d'accaia e così via allora i principi d'accaia a un certo punto gli viene una voglia e la grandezza di torino comincia da questo sapete la cosa comincia la grandezza di torino dal fatto che i principi d'accaia a un certo punto hanno voglia di avere nel loro stato l'università io non insegno l'università di torino quindi posso dire tranquillamente questa cosa è grazie all'università di torino che torino comincia a staccare politicamente le altre città e vediamo perché l'università quando un principe vuole avere l'università nel suo stato non è per amore della cultura è sia chiaro un po' è per il prestigio perché le università all'epoca sono tutte sotto la protezione della chiesa vengono istituite con l'autorizzazione del papa il papa fornisce mezzi finanziamenti cioè il papa fornisce finanziamenti quando c'è l'università il papa autorizza il governo a far pagare le tasse al clero per finanziare l'università ma poi soprattutto l'università vuol dire la facoltà di giurisprudenza è quello il punto e la facoltà di giurisprudenza produce dei laureati e i laureati sono indispensabili per l'amministrazione dello stato ogni principe deve avere dei giudici dei consiglieri ferrati nel diritto per tutti i rapporti complicati con gli altri stati con i comuni con la chiesa è molto complessa la gestione del potere politico e gli specialisti in giurisprudenza sono preziosissimi ce n'è pochi studiare all'università costa caro quindi i laureati sono pochi vengono prodotti in pochi posti l'università più vicina per i savoia e per gli acaia e pavia è abbastanza vicina direte voi però è nello stato dei duchi di milano dei visconti questo vuol dire che noi reclutiamo i nostri più alti funzionari i nostri ministri fra gente che ha studiato all'estero e non solo all'estero dalla concorrenza perché il ducato di milano ovviamente dato che si confina è una potenza rivale ecco che ai principi d'accaia viene in mente sarebbe una bella cosa farci la nostra università e fabbricare in casa i nostri laureati perciò nell'anno 1400 fanno cadere una parolina al consiglio comunale di pinerolo voi come reagireste se vi proponessimo di mettere qui un'università capite l'università allora come oggi ma più di oggi in realtà è tutto sulle spalle del comune gli alloggi gli alloggi per i professori per gli studenti un sussidio per pagare gli stipendi arriva in città abbastanza roba per mantenere tutta questa gente che arriverà ecco pinerolo ne discutono sembra una bella cosa però per il momento cade ma due anni dopo 1402 muore di peste giangaleazzo visconti duca di milano e il ducato di milano di colpo si sfascia i suoi figli sono bambini ogni condottiero ne vuole prendere un pezzo il ducato di milano sprofonda nell'anarchia all'università di pavia i professori e gli studenti si guardano in faccia e si dicono sarebbe il caso di trovarci un'altra sede capite l'università è un impegno grosso costa però non comprende tante infrastrutture il professore può anche insegnare in casa sua quindi non ci vuol niente a spostarsi il bello è questo e l'università è un insieme solidale professori e studenti sentono che formano una comunità e se in una città non stanno bene non ci mettono niente a discutere e dire ci trasferiamo vediamo dove ci offrono condizioni migliori contattano il principe d'acaia i professori e gli studenti di pavia sono disposti a venire lì però fino a pinerolo è un po lontano non ci sarebbe un posto più vicino principe d'acaia non ne ha molte di città pinerolo fossano savigliano peggio che mai torino ecco vista da pavia torino non è poi così male tenete conto ci si sposta a piedi o a cavallo a dorso di mulo da torino a pinerolo è una giornata in più cambia cambia la vita perciò l'università di torino viene fondata a torino se non fossero venuti da pavia avrebbero fondata a pinerolo probabilmente e oggi il grattaceo del san paolo sarebbe a pinerolo e noi staremo raccontando come pinerolo divenne la capitale del piemonte ma invece questo primo passo va a favore di torino solo che torino veramente non ha in mente ancora di poter diventare una grande città e di fronte alle spese che comporta l'impegno politico evidentemente non è all'altezza perché pochi anni dopo noi sappiamo che i professori e gli studenti se ne vogliono andare rimangono nello stato sabaudo va bene ma non c'è un'altra sede finché c'erano i principi d'acaia l'abbiamo detto possibilità ce n'è poche ma 1418 muore l'ultimo principe d'acaia il cugino amedeo ottavo duca di savoia si prende tutto a questo punto torino è immersa nel grande ducato sabaudo un pezzo che parla francese al di là delle alpi è un pezzo che parla italiano ufficialmente e a casa piemontese al di qua delle alpi e di città ce ne sono tante adesso tutte piccole ma tanto per come piccola torino non ci sono problemi l'università lo studio come dicono allora lo studium generale decide ce ne andiamo a chieri e si trasferiscono a chieri e a torino il clero comincia subito a protestare perché il comune di torino vorrebbe continuare a far pagare al clero la tassa per l'università ma l'università se n'è andata e il clero fa una bella dichiarazione in cui dice non solo se n'è andata ma non torna più ci avevate fatto credere che sarebbero venuti in tanti professori a insegnare ne abbiamo visti pochi e quei pochi se ne sono andati quindi in realtà si mette maluccio ma qui torino di fronte a questa sfida per la prima volta dimostra la cosa che poi che poi ci seguirà attraverso le altre cose che racconteremo cioè a torino il consiglio comunale comincia a dirsi no noi dobbiamo progettare la crescita della città e perché la città cresca la prima cosa è riprenderci l'università poi vedremo ma intanto dobbiamo riprendercela allora mandano una bellissima protesta al duca di savoia dove dicono quelli di chieri ci hanno rubato l'università e si sa come sono quelli di chieri presuntuosi temerari a presumpzio non sono mai contenti non gli basta a crescere dei vantaggi a chieri vogliono sempre anche diminuire torino invidiosi hanno sempre cercato di portare via a torino questa cosa che cercano di portare via le cose a torino come vedete è una vecchia storia ecco nel 400 sono quelli di chieri che ci portano via tutto hanno raccontato un sacco di frottole al duca non è vero che a torino l'università sta male siamo pronti a riaverla e siccome quelli di torino qui cominciano a dimostrare effettivamente un certo polso al duca dicono a te serve che torino sia ricca prospera ti serve lo sai vero senza l'università siamo entrati in crisi economica la prossima volta che tu duca di savoia vieni a torino e non sappiamo se riusciremo a accoglierti con la solita magnificenza ecco e anche peggio in caso di guerra siamo così malmessi che non so se sapremmo difenderci in caso di guerra come vedete ci vanno giù pesante ma pensate che l'università vuol dire centinaia di persone tutte ricche che spendono cambia in cittadine così piccole il duca tiene duro l'università a torino si trovava male e io non ve la ridò però dopo un po l'università si trova male anche a chieri non sono mai contenti a pavia si stava meglio pavia era una città più grande allora allora dall'università cominciano a contattare altre città ivrea ci offrite delle condizioni adatte a ivrea a ivrea ne discutono però poi non combinano niente pinerolo vi interessa ancora pinerolo interessa ne discutono però ci vuole il permesso del duca alla fine vanno dal duca a chiedere il permesso di andarsene da chieri e il duca decide li mandiamo a savigliano e l'università viene mandata a savigliano con una lettera del duca in cui dice quelli di chieri l'hanno contata tanto che volevano l'università poi si sono dimostrati degli incapaci speriamo che savigliano sia meglio la verità è che savigliano non è meglio perché come dimensioni siamo sempre lì ma a quel punto avete capito conta tanto la collocazione geografica gli assi stradali torino è ben collegata c'è il monferrato subito lì la strada che viene da vercelli quella della val d'aosta savigliano è molto più all'indentro della campagna insomma lo studio neanche a savigliano sta bene tornano dal duca il duca esasperato ormai è il principe ludovico figlio di amedeo ottavo amedeo ottavo è ancora vivo ma nella vita voglia di fare altre cose qualcuno di voi si ricorderà che fa il papa anche a un certo punto amedeo ottavo diventa antipapa ormai governa suo figlio ludovico e ludovico che non ne può più evidentemente dice va bene sapete che c'è la rimandiamo a torino l'università e non voglio più sentirne parlare torino in questi 18 anni è cresciuta lo stesso savigliano ha dimostrato di essere incapace e buona niente testualmente quindi è ditto del duca l'università d'ora in poi starà sempre a torino e nell'editto il duca dice anche un'altra cosa e a torino insieme all'università ci starà anche il consiglio cismontano che cos'è il consiglio cismontano voi dovete sempre aver presente come fatto lo stato dei savoia un pezzo al di là e un pezzo al di qua e il duca che va continuamente avanti e indietro con tutto il suo governo i suoi consiglieri i giudici e tutti quanti perché è lui che deve prendere le decisioni firmare gli atti quindi si muove con tutto il governo ma non può stare troppo tempo di là perché di qua lo chiamano e hanno bisogno e quando è di qua i savoiardi cominciano a dire quando è che torna di qua c'è una competizione continua il duca è sempre in movimento e quando è assente deve lasciare un governo perciò quando il duca è in savoia e a quest'epoca sta più in savoia che in piemonte sono i savoia sono i duchi di savoia sono francesi queste generazioni qua sono principi francesi parlano solo francese l'italiano non lo sanno quindi stanno di più di là e quindi ci vuole un governo che governi il piemonte in nome del duca nobili consiglieri vescovi laureati fondamentali governo e tribunale supremo e ovviamente a questo punto avete capito come funziona questo tribunale supremo che governa il piemonte per conto del duca tutte le città lo vorrebbero e anche quello è un bell'indotto qui siamo proprio nel contesto di cui abbiamo sentito parlare tanto in questi giorni milano è l'agenzia europea del farmaco uno scopre che l'agenzia europea del farmaco ha 900 dipendenti 900 ottimi stipendi le famiglie ecco l'indotto è enorme allora è la stessa cosa l'indotto di un organismo come il consiglio cismontano può fare la differenza fra il progresso di una città e la sua crisi e all'inizio questo consiglio il duca lo aveva messo a pinerolo anche perché pinerolo al momento in cui si doveva decidere ha tirato fuori 300 scudi e ha pagato una bustarella al duca per ottenere che questo organismo venisse collocato a pinerolo solo che pinerolo di nuovo qui si comincia a vedere poche decine di chilometri all'epoca sono una giornata di viaggio e cosa deve fare il consiglio cismontano è il tribunale supremo tutti quelli che hanno un processo in piemonte devono venire lì e ancora ancora pinerolo è un po più marginale di torino bisogna dire specialmente adesso che abbiamo anche vercelli quindi si è allargato molto verso est poi cosa fa il consiglio cismontano al posto del duca fa le riunioni dei tre stati questa cosa ve la devo spiegare perché è fondamentale il duca ha un bel comandare ma non è un sovrano assoluto i sovrani assoluti non sono ancora di moda nel medioevo nel medioevo il duca se vuole imporre delle tasse deve chiedere al popolo che cosa ne pensa poi il popolo è rappresentato dai suoi signori è rappresentato dalla chiesa ma anche le città mandano i loro deputati e regolarmente bisogna riunire un'assemblea i tre stati i nobili il clero avete presente la rivoluzione francese gli stati generali è quella stessa cosa i tre stati i nobili il clero e le città i borghesi delle città e il duca continuamente li riunisce per chiedere soldi quando ne ha bisogno e quando il duca non c'è cioè spesso è il consiglio cismontano che li riunisce e queste riunioni si tengono a pinerolo però molti si lamentano è fuori mano pinerolo allora cominciano a tenerle a torino e pinerolo protesta noi abbiamo il privilegio pagato 300 scudi però c'è anche una terza cosa che fa il consiglio è un vero organo di governo continuamente c'è da ricevere ambasciatori milanesi ambasciatori veneziani per discutere trattati paci guerre e gli ambasciatori milanesi e ancor più quelli veneziani che arrivano da lontano e sono in viaggio da una settimana quando arrivano a torino tendono a dire ma non potreste venire qua anche voi che discutiamo a torino anziché dover andare ancora fino a pinerolo e il consiglio si sposta a discutere a torino risultato quelli di pinerolo strepitano noi abbiamo un privilegio che garantisce che deve stare qui e invece sta sempre a torino vanno dal duca a protestare il duca si spazientisce e nello stesso momento in cui dice basta non ne voglio più sentire parlare l'università sta a torino nello stesso momento dice e anche il consiglio ci sta fisso a torino torino tira fuori dei soldi naturalmente torino tira fuori dei soldi si impegna notate a pagare 500 fiorini all'anno all'università finché il consiglio starà a torino cioè hanno chiarissimo che sono due pezzi della stessa macchina di governo e che se una città li vuole bisogna pagare e vale la pena di farlo quindi quindi torino già dal 1400 vi ho detto la data forse no del resto l'avete dimenticata nel frattempo 1436 consiglio cismontano università il consiglio governa la parte piemontese dello stato per la parte savoiarda ce n'è un altro l'università è l'unica università di tutto il ducato una capitale di solito è anche un posto dove il sovrano risiede volentieri ma non sempre pensate a come i re di francia non stavano volentieri a parigi e appena hanno potuto si sono fatti il palazzo di versailles e abitavano a versailles e a parigi non ci andavano torino è la stessa identica cosa non viene fuori perché personalmente i duchi hanno piacere di starci anzi è perfino un po' imbarazzante per chi è torinese vedere come nella torino dell'epoca i duchi non ci volevano stare proprio per niente doveva essere una città un po' morta stava diventando una città di burocrati di professori di funzionari non ci si divertiva tanto i duchi quando vengono in piemonte vanno a pinerolo oppure vanno nei loro castelli castello di moncalieri il castello di rivoli più tardi lo sapete in secoli successivi cominceranno a farsi costruire quelle grandi residenze che oggi sono uno degli orgogli diciamo del piemonte turistico e che rispondono sempre alla stessa esigenza dappertutto ma non a torino e torino si rassegna pazienza non è quello che conta talmente poco hanno voglia di stare i duchi a torino che vi dico ancora questo due anni prima 1434 negoziati col marchese di monferrato il duca manda suo figlio ludovico che è un giovane principe il marchese manda suo figlio che è un giovane principe e i loro consiglieri si radunano a torino e passano settimane settimane a discutere a torino il 17 dicembre il figlio del marchese di monferrato scrive a suo padre il principe di savoia ha deciso di andare a divertirsi a trovare le signore a chieri e a moncalieri a torino non ce ne sono di signori eleganti evidentemente e il giovane principe si annoia e mi ha invitato e lasciare qui il suo consiglio qui a torino e mi ha invitato da parte sua ad andare con lui e lasciare qua il mio consiglio in modo che questi consigli si spacchino la testa fra loro mentre noi giovani principi ce ne andiamo a divertirci a torino si lavora se uno vuole divertirsi deve andare a pinerolo a moncalieri a chieri eccetera a questo punto sembrerebbe tutto fatto ma le altre città piemontesi non si rassegnano sentono di avere tutte le possibilità che a torino sono grandi quanto torino perché diavolo deve essere tutto fermo a torino certo il duca ha deciso bisogna aspettare un'occasione ma le occasioni arrivano 1457 c'è la peste a torino sapete all'epoca la peste non arriva più con quelle grandi ondate come la grande peste del boccaccio che invade tutta l'europa nel 400 nel 500 la peste arriva un po per volta c'è in una città loro sono anche diventati bravi stanno attenti ogni morto viene visitato da un medico per sapere di cosa è morto se c'è sospetto di peste si chiude tutto si chiude la casa si sbarra la via quando in una città ce ne sono due o tre la notizia corre e in tutte le altre città si dice adesso non lasciamo più entrare nessuno che viene da vercelli perché a vercelli ci sono due casi di peste questo vuol dire che la fermano abbastanza la peste arriva in una città e poi non riesce a diffondersi 1457 la peste è a torino bisogna andarsene l'università è la prima che se ne va non stiamo qui finché c'è la peste torniamo a chieri istantaneamente da chieri da moncalieri da vercelli i consigli comunali scrivono al duca dicendo beh visto che l'università non è più a torino che ne direste di trasferirla in definitiva qui da noi il duca tiene duro non molla e si capisce anche vercelli vercelli sì che è periferica vercelli ai loro occhi è in lombardia l'hanno appena presa ai visconti di milano non può essere un centro chieri chieri un po più vicina però chieri da fastidio anche lei chieri una città industriale è piena di industriali della lana del tessile che fanno soldi è piena di operai piena 10.000 abitanti sempre però ai loro occhi è una grande città turbolenta è una città industriale non è un posto adatto per un governo che deve poter lavorare con calma moncalieri moncalieri si potrebbe discuterne nel momento in cui torino e moncalieri hanno le stesse dimensioni qualcuno a moncalieri si dice perché allora non da noi moncalieri e torino sono continuamente in urto si odiano 1458 consiglio comunale di torino bisogna prendere provvedimenti sull'offesa e la violenza che ci hanno fatto quelli di moncalieri che hanno piantato senza permesso le forche sul territorio di torino al di là del sangone vecchio cosa vuol dire piantare le forche le forche sono un simbolo importante io ho diritto di giudicare di condannare anche di condannare a morte il fatto che io un signore un nobile o una città ho il diritto di giustizia e ho il diritto di condannare anche a morte è una cosa fondamentale e come faccio a farlo vedere piantando le forche quando si entra in un territorio la prima cosa che si vede è la forca piantata lì da chi comanda e chi entra lo sa che lì regna l'ordine perché chi comanda lo mantiene allora il sangone probabilmente si sposta un po di qua un po di là le inondazioni il sangone vecchio dice peccato che sia il confine fra torino e moncalieri e di conseguenza ogni volta che il sangone si sposta quello è nostro non è vero è nostro come fare a dimostrare che è ci piantiamo le forche però questi sono giochini che si fanno anche in campagna ogni paesino con l'altro si invade si va a fare la processione un po più in là del confine in quel pezzetto di pascolo che secondo noi è nostro questi litigi sono l'anima della vita della vita politica nel mondo del medioevo dell'età moderna però qui si tratta di altro si tratta di essere la capitale del piemonte e allora quelli di moncalieri si muovono un po di più poche settimane dopo questa violenza delle forche di cui a torino si discuteva a torino si discute di qualcos'altro ci hanno avvertiti che quelli di moncalieri cercano di tirare da loro il consiglio cismontano e di ottenere dal duca che lo trasferisca lì e il consiglio comunale di torino scrive nero su bianco se lo lasciamo succedere sarà gran danno e vergogna della nostra città ora noi non sappiamo li hanno avvertiti come mai li hanno avvertiti forse i membri del consiglio in realtà loro erano stufi di muoversi voi capite un organo di governo con i suoi archivi le sue scartoffie i suoi uffici forse loro preferivano stare a torino si può anche pensare male il duca stesso che sta negoziando con quelli di moncalieri per dare il consiglio a loro ha avvertito quelli di torino per vedere chi paga di più e come sapete a pensare male si fa peccato ma in genere ci si azzecca fatto sta che viene fuori che quelli di moncalieri hanno già pagato 1200 fiorini al duca per avere il consiglio nella loro città a torino dicono beh dobbiamo spendere anche noi stanziamo cosa riusciamo a stanziare qui per un attimo hanno il braccio un po corto stanziano 1000 fiorini quegli altri ne hanno già spesi 1200 vanno a chiedere al duca e il duca dice beh possiamo metterci d'accordo se volete non lo sposto però 1200 fiorini a torino ci ripensano va bene dai possiamo salire arriviamo a 1200 vanno dal duca capite cos'era la politica allora in confronto quella di oggi il duca dice mi dispiace il prezzo è salito 1600 fiorini torino tornano a dissi intanto moncalieri ha già pagato c'è già l'editto trasferimento del consiglio ci smontano a moncalieri a questo punto qualcuno deve lanciare un'idea dice andiamo ancora un po più in là fanno una cosa geniale è un po complicata da raccontare ma abbiate pazienza mi sono detto a lungo gliela racconto non gliela racconto poi alla fine ho detto vabbè diavolo gliela racconto a un certo punto il duca e i torinesi dicono ma il duca dice se volete non solo vi lascio il consiglio ma gli do anche un grosso privilegio che d'ora in poi contro le sentenze del consiglio di torino non ci sarà più possibilità di appello non più diritto di appello diventa il tribunale supremo i torinesi dicono beh bella cosa costa molto sì dice il duca 5.000 fiorini però attenzione tutto il piemonte va al tribunale del consiglio ci smontano quindi è un vantaggio per tutto il piemonte se le sue sentenze non sono più appellabili perciò i 5.000 fiorini fateli pagare alle altre città si mettono d'accordo a un certo punto noi abbiamo dei documenti che dicono che consiglio comunale torinese nomina una commissione il duca nomina i suoi consiglieri e insieme lavorano alla bozza e fanno questo accordo e poi vanno a dire alle altre città rivali non solo il consiglio non va più a moncalieri e anzi il duca dice l'abbiamo rimesso a torino che si è rivelata la città migliore la più onorifica la più adatta la più capace 5.000 fiorini la più utile a tutto il paese superiore a moncalieri in tutto qui interessante il duca dice non solo a torino c'è l'università ci sono i professori laureati gli avvocati ci sono più artigiani più osterie alberghi più mercato non solo a moncalieri quando il po cresce è difficile andarci e c'è chi c'è affogato ecco quindi a torino e poi non solo torino appunto a questa soddisfazione ma può dire alle altre città piemontesi il nostro signore il duca ci ha dato un grande privilegio non solo il consiglio rimane a torino ma d'ora in poi contro le sentenze del consiglio di torino non ci sarà più possibilità di appello e le altre città dicono e a noi che ce ne facciamo farà piacere a voi di torino ma a noi delle altre città non ci serve mica questo privilegio non lo vogliamo a torino gli dicono ormai è già deciso il privilegio è concesso e dovete pagare a questo punto si scatena l'inferno perché ogni città scrive per conto suo al duca dicendo ma noi non lo vogliamo poi alla fine c'è chi paga c'è chi non paga bene o male ma in ogni caso il consiglio rimane a torino e torino non tira fuori un soldo i 5.000 fiorini li pagano tutti le altre città piemontesi a questo punto è chiaro che questi insomma sanno fare politica questi del consiglio comunale torinese e sono già in una posizione di superiorità netta rispetto alle altre città cosa che però si paga non solo in fiorini e devo dire un'altra cosa si paga anche dei vantaggi si paga in scomodità magari 1464 il duca ludovico chiede al papa per piacere ordina alle chiese di torino di trasferire in campagna tutti i contadini le stalle i letamai che finora tenevano dentro torino glielo può ordinare solo il papa ma il papa lo ordina perché dice torino è una città dove c'è l'università dove c'è il consiglio cismontano non possiamo più sopportare che sia piena di bestiame di contadini di letame e così via decoro urbano però il problema è un altro il problema è che questa città che sta crescendo da 5.000 a 10.000 abitanti a noi può sembrare ridicolo si trova improvvisamente in preda a una criminalità una violenza un disordine di strada assolutamente inaspettati per via di tutta questa gente nuova che viene a torino ed è impressionante vedere dalla metà del quattrocento la raffica di provvedimenti e di denunce il duca stesso scrive al giudice di torino dicendo prendere misure drastiche contro il moltiplicarsi degli omicidi in città il consiglio comunale prende misure drastiche contro quelli che vanno di notte e fanno aggressioni per costringerli a smettere si istituisce una guardia straordinaria di cittadini 50 cittadini armati che dovranno fare le ronde di notte contro il dilagare della criminalità qualche anno dopo 1460 provvedere sugli eccessi che avvengono ogni giorno nella città di torino un nuovo servizio di guardia 80 cittadini armati che dovranno pattugliare le strade inoltre si sospende la legge che vieta di girare armati ogni cittadino possa portare daghe coltelli al di là della misura di legge per difendersi senza pagare multa per dar timore ai malfattori in altre parole nella disputa americana sulle armi da fuoco se sia meglio averle o non averle loro sono essendo medievali sono convinti che è meglio averle se c'è violenza se ci sono omicidi aggressioni i bravi cittadini devono poter girare armati ma è la polizia il problema è che la polizia è una di quelle cose che non avevano ancora inventato il vicario del duca che governa la città insieme al consiglio comunale ha una squadretta di sbirri che non è proprio una polizia sono tre o quattro uomini in tutto presi probabilmente meglio non andare a vedere come per cui a un certo punto il consiglio comunale è costretto a lagnarsi degli sbirri del vicario che all'improvviso osano ferire e picchiare la gente per le strade di torino di loro autorità contro il diritto quindi i poliziotti sono i primi che maltrattano la gente quindi appunto ronde i cittadini si armano e pattugliano e tutto questo avviene perché la città si trova a ospitare l'università il governo forestieri che arrivano da tutte le parti questo loro lo dicono chiarissimamente gli eccessi e gli scandali che avvengono tutti i giorni in questa città per la diversità di genti di lingue e di costumi capite gli sono arrivati dei savoiardi dei lombardi e loro si sentono che è pieno di stranieri gente strana che parla lingue strane che ha abitudini strane che con noi torinesi e non è facile andarci d'accordo tra questi forestieri spiccano in modo particolare naturalmente gli studenti dell'università è sempre così nelle città medievali gli studenti sono ricordiamoci giovanotti in genere si va all'università 16 17 anni e ci si sta anche parecchi anni c'è anche qualcuno che viene già da adulto sono fuori sede lontano dalla famiglia sono tutti di buona famiglia qualcuno delle borse di studio ma il grosso sono ricchi quindi hanno soldi spendono espandono vivono insieme si associano fanno banda e litigano con i cittadini questo succede succedeva una volta in tutta l'università del mondo se andate a leggere i romanzi sulla oxford nell'ottocento lì nella oxford dell'ottocento cittadini e studenti si picchiavano tutte le notti per la strada ed era così solo che qui non picchiano soltanto dimenticavo di dirvi che questa è tutta gente che gira armata naturalmente c'è il coltello della misura permessa ma il coltello ce l'hai se sei nobile hai la spada e molti studenti sono nobili e girano con la spada perciò sempre ordinanze del consiglio comunale i cittadini devono dare manforte agli sbirri che da soli non ce la fanno nelle risse degli studenti quando gli studenti litigano nessuno deve prestargli armi perché arriva anche qualcuno che per rendere un servizio ecco scoraggiare le malefatte commesse dagli studenti che vanno in giro di giorno e di notte con le armi in gran folla con grande pericolo di gravissimi scandali perciò contro gli studenti e le loro violenze nuova ronda 100 cittadini armati qualche anno dopo nuova ronda 200 cittadini armati capite che il clima e poi appunto questi non si sa da dove vengono torino è piena di gente straniere e di nazioni lontane gente facile a scatenare delle risse per cui derivano molti danni omicidi pestaggi violenze stupri di donne anche oneste qui ci sarebbe tutto un contesto da ricostruire la vita sessuale di quest'epoca è stata molto studiata i giovani sono violenti e il clima è le donne per bene non bisogna toccarle certo se la prostituta di strada è stata violentata cosa vuole venirsi a lamentare questo è il clima spiace dirlo però se invece cominciano a toccare la donna per bene allora allora tutti si allarmano c'è il bordello andate al bordello ma ecco e poi c'è l'altro problema che nasce dal fatto che ormai appunto con queste istituzioni in città e lo anticipo col duca che viene sempre più spesso soggiorna più a lungo nella zona arrivano tanti savoiardi e noi oggi non ci ricordiamo più oggi semmai si pensa al 1860 quando cavur ha dovuto regalare la savoia alla francia quasi con un po di rimpianto noi non ci ricordiamo più che invece finché stavano insieme piemontesi e savoiardi si odiavano avevano interessi completamente contrapposti non avevano niente in comune parlavano due lingue diverse ai piemontesi interessavano i contatti con l'italia l'espansione verso l'italia il commercio con l'italia ai savoiardi interessavano i rapporti con la francia e da una parte e dall'altra il gioco che sta facendo torino lo faceva anche l'intera regione vogliamo qui il governo il maggior numero possibile di enti di tribunali di consigli li vogliamo qui vogliamo che il duca stia di qua con la sua corte perché quando c'è la corte il duca spende spande quindi deve stare di qua una volta stava sempre in savoia o quasi nel corso del 400 viene sempre più spesso in piemonte e i savoiardi si lagnano perché non torna da quanto tempo è in piemonte e a loro volta in piemonte si lagnano e da un po che non viene e devo dire che i savoiardi si lagnano in modo querulo cioè come chi sta perdendo mentre i piemontesi si lagnano con forza perché ormai il piemonte sta decollando economicamente e la savoia rimane indietro piemonte ha più gente paga più tasse e più forte e allora può permettersi di scrivere quando il duca bambino dopo la morte della duchessa iolanda anche lei ricordata da via duchessa iolanda che è qui a due passi naturalmente il duca filiberto è un bambino e alla corte del re di francia dal piemonte l'assemblea dei tre stati piemontesi manda al re di francia dicendo vorremmo riavere indietro il nostro duca e che stia e abiti esso duca in la città del taurino quindi si esprimono come dire con energia che la residenza del duca signor suo abbia ad essere omnino cioè totalmente a taurino e i duchi alla fine si adattano all'inizio del cinquecento i duchi stanno ormai molto di più a torino e in piemonte che non dall'altra parte e quando vengono sono sempre attenti a tenersi buoni piemontesi con grandi discorsi il piacere che il duca prende in questo suo paese al di qua delle alpi così pieno e popolato di buoni sudditi così ricco che paga così tante tasse avrebbe potuto aggiungere ovviamente risultato però è pieno di savoiardi e la violenza si scatena contro i savoiardi anche contro i cortigiani contro i nobili del seguito del duca i piemontesi detestano i savoiardi il più antipatico chi è il gran signore che arriva a cavallo con le sue guardie ed è uno straniero di fatto agli occhi dei torinesi ci sono ovviamente certi momenti in cui la violenza è più facile a scatenarsi carnevale quando tutti girano di notte mascherati il 24 giugno san giovanni battista in quei giorni bisogna stare attenti la notte del 24 giugno 1490 un grande nobile savoiardo lui de miolan viene aggredito per strada mentre torna dal castello di piazza castello alla casa dove abita in via garibaldi viene aggredito per strada la folla lo insegue dentro casa sfonda la porta il signore di miolan si salva per miracolo ma gli ammazzano uno scudiero e quattro servi poi si cerca di capire cosa è successo si fa un'inchiesta il segretario della duchessa bianca scrive sì la gente l'ha aggredito all'improvviso non si capisce perché poi viene fuori tra la folla si era sparsa la voce che i savoiardi avevano arrestato tre ragazzi torinesi li avevano portati in quella casa e li volevano mettere a morte e allora la folla ha attaccato la casa il cronista torinese che racconta il punto di vista torinese dice no no e il signore di miolan che nella piazza del duomo ha attaccato briga con un gruppo di giovani torinesi e i giovani torinesi hanno dovuto chiamare aiuto e tutti sono arrivati per aiutare i nostri aggrediti dai savoiardi e poi la gente convinta che i ragazzi fossero stati arrestati ha dato l'assalto alla casa dove abitava questo signore sei mesi dopo 20 gennaio 1491 di notte viene ucciso in un agguato un altro gran signore della corte savoiarda luido villette il cronista torinese che raccolta la cosa dice ma è per forza fra noi e gli allobrogi cioè i savoiardi non ci si capisce i costumi sono diversi la lingua è diversa per forza succedono queste cose questo luido villette aveva governato in piemonte per conto del duca si era attirato molto odio e quando viene ucciso a torino vengono composte poesie in latino maccheronico sulla morte del signor de villette cui fuit ammazzatus nocte passata che è stato ammazzato la notte scorsa e in queste poesie si dice speriamo che adesso se ne vadano tutti i magnin li chiamano così i magnin i savoiardi la rabbiosa magninorum turba questa folla rabbiosa arrabbiata dei magnin che se ne tornino alle loro montagne e alle loro castagne lasciando i piemontesi padroni a casa loro come vedrete in ogni epoca come dire basta poco per scatenare questo tipo di riflessi e fatto stare che cosa succede finiamo succede questo che torino grazie a una serie di decisioni ducali è diventata di gran lunga la città egemone in piemonte e anzi nel ducato perché appunto ormai a fine 400 anche il duca si trova quasi sempre lì la corte è spesso lì l'ultimo organo di governo importante è il consiglio che in teoria si dovrebbe sempre spostare insieme al duca ma a inizio 500 decidono che anche questo governo supremo anziché spostarsi sempre insieme al duca si ferma a torino torino diventa il posto cioè dove lavora la stragrande maggioranza dei ministri e dei giudici al servizio del duca e del resto sono tutti laureati a torino che è l'unica università ci si trovano benissimo non hanno nessuna voglia di muoversi quindi torino che non è affatto più grande delle altre città però è piena appunto di funzionari di burocrati di laureati di professori è una città burocratica ci sono decine 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 di gente di questo tipo che abitano a torino ed è tutta gente ricca che spende naturalmente che paga molte tasse quindi insomma ormai la città è irraggiungibile e anche vista dalla savoia ormai torino è la vera capitale perché il duca ormai è quasi sempre lì e per i processi anche dalla savoia bisogna venire a torino i savoiardi si lamentano enormemente è significativo non dicono ridateci il consiglio supremo qui in savoia dicono non potremmo fare che sta sei mesi di qua e sei mesi di là vuol già dire che a loro la parità basterebbe insomma e invece il piemonte si mangia tutto anche chamberia a questo punto rimane davvero un buco chamberi ha la metà degli abitanti di torino altre parole quando torino arriva 10.000 chamberi ne ha 5.000 è vero che il duca di savoia mandando in regalo al papa molto buon vino ottiene che chamberi diventi sede episcopale per cui nasce la diocesi di chamberi però nello stesso momento il vescovo di torino diventa arcivescovo come rimarrà poi fino ad oggi e quindi anche lì la distanza è mantenuta allora quello su cui voglio chiudere è quello che succede con la famosa invasione francese del 1536 da cui eravamo partiti torino ormai è indiscutibilmente la capitale e però i savoia continuano a avere l'impressione che questa città non li ama poi così tanto questa è una di quelle cose che poi la storiografia piemontese non metterà tanto in evidenza perché si tenderà più a parlare come dire della fedeltà dei piemontesi alla dinastia se uno va a vedere specialmente a torino i savoia sono alleati della spagna a torino molti si dicono ma noi non converrebbe di più stare con la francia ce l'abbiamo lì risultato negli ultimi anni durante le guerre d'italia a torino si aggiunge un ulteriore motivo di violenza nelle strade 1534 la duchessa beatrice da torino scrive al duca dicendo qua bisogna provvedere sulle bande che si fanno in questa città dove i bravi girano pubblicamente con archibugi scudi e altre armi senza che la polizia faccia niente siamo arrivati al manzoni come vedete siamo arrivati ai bravi qui siamo un secolo prima ma i bravi dureranno a lungo i ricchi di torino hanno la loro scorta di bravi pagati da loro e i bravi vanno in giro armati e la polizia non osa fare niente e molti di questi tendono a spingere francia no spagna in ogni città italiana all'epoca ci si picchia e ci si ammazza franza franza spagna spagna poi come sapete ci sono i cinici che dicono purché se magna ma in realtà le fazioni sono violente e quando finalmente i francesi 1536 invadono il piemonte il grande problema per gli spagnoli e per i savoia è riusciamo a difendere torino è l'unica cosa che conta chiedono al consiglio comunale dei soldi per armare delle truppe il consiglio comunale torinese dice che non ci sono soldi pazienza alla fine il duca evacua torino entrano i francesi e i cronisti al servizio dei savoia scrivono il nostro duca ha dovuto sgombrare torino con grande rimpianto e con enorme tristezza dei buoni sudditi non dico di quelli di torino perché quelli non hanno aspettato neanche che il duca fosse a cavallo che sono andati incontro ai francesi per portarli nella loro città anche perché torino sa benissimo che quello che ci interessa è essere la capitale e anche con i francesi continueremo a essere la capitale infatti immediatamente il piemonte viene annesso alla francia e torino diventa la capitale di una provincia francese con il suo parlamento come tolosa come digione come le grandi città francesi ognuna delle quali governa la sua regione per ordine del re cristianissimo quindi torino sotto l'occupazione francese sta benissimo continua a essere capitale cresce prospera i savoia sono fuori all'inizio avevano sperato di riuscire a riprendere torino anzi vi leggo ancora questa citazione avevano sperato di intrappolare i francesi dentro torino per cui subito dopo l'ingresso dei francesi a torino c'è una lettera del duca di savoia che dice attenzione dobbiamo ben provvedere sentite l'italiano che si parlava alla corte dei savoia adesso cominciano a parlare italiano e non più solo francese per forza perché qua in piemonte se parli francese a quell'epoca non vai tanto lontano cominciano a parlare italiano ma sentite che italiano bisogna ben provvedere che i francesi quali sono in turino più non usciscano cioè più non escano voleva dire usciscano poi si sa che a torino la show non si riesce a pronunciare quindi diventa usciscano fatto sta che i francesi non ci pensano neanche a uscire rimangono dentro torino 25 anni e quando finalmente si fa la pace e i francesi restituiscono il ducato a emmanuele filiberto emmanuele filiberto non trasferisce nessuna capitale da chamberi viene a torino che è assolutamente l'unica cosa che aveva senso fare visto tutto quello che era successo in precedenza dopodiché rimette la spada nel fodero cavallo al brus siamo tornati al punto di partenza grazie grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio ciao 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 ciao